Carissimi, buona e santa serata a tutti voi. Questo giorno comincia a declinare, a volgere al termine. Chi ha seguito il video del buongiorno ricorda che vi ho esortati, invitati a meditare sull'atto salvifico di Gesù, luglio, mese dedicato al sangue di Cristo. E Gesù, Gesù sulla croce, versa fino all'ultima goccia di sangue per noi, per la nostra salvezza. Grazie Signore, grazie per questo dono immenso del tuo amore. Grazie per amarci così tanto, anche quando noi, a causa delle nostre miserie, dei nostri peccati, dei nostri limiti, dei nostri errori, non lo meritiamo. Grazie Signore. E questa sera ti chiediamo di visitare le nostre case, le nostre famiglie, le nostre vite, le nostre storie, quelle storie ferite da tante situazioni, quelle coppie, quelle famiglie ferite da tante situazioni. Raccomando il dialogo, raccomando la preghiera, raccomando di bere alla grazia di Dio. Non pensate di portare il peso di una cosa celeste con le sole forze umane. Ciò che viene dall'alto deve essere nutrito con ciò che viene dall'alto. Ciò che è di terra si ciba di terra. Ma il nostro cammino di fede, il nostro cammino spirituale, viene dal cielo e ogni giorno deve attingere al cielo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti, ci ritroviamo domani e vi ricordo che domani sera alle 21 abbiamo il Santo Rosario e come ogni settimana ci ritroviamo a pregare insieme come famiglia. Vi voglio bene tanto. Buonanotte e forza, tutto dal cielo dobbiamo prendere, perché la nostra vita appartiene al cielo.